Spettacolo dei Test Match Spettacolo dei Test Match Spettacolo dei Test Match Spettacolo dei Test Match Spero che vinci. Il campionato come sta andando? Il campionato è bene, siamo fino alla seconda in classifica. Una squadra di elite della vostra categoria? Sì, è Under 16. Andiamo a Under 16 e viene a vedere la nazionale. Cosa c'è da imparare? Per migliorare un pochino, per fare nuove cose. Che effetto fa vedere un toscano che gioca mediano di mischia in nazionale? Cioè fa un effetto bello e anche un po' emozionale. Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia!